Tecnicamente è bufale, perché può fare qualsiasi cosa con la palla, è difficile toglierla, se non stai attento ti fa il tunnel, quindi lui ma anche Nathan è forte, molto forte. Come giocatore, forse da quello che sta facendo vedere ora Mertens, per me, io. Io ho sentito che te dici molto forte. Sì, i serbi sono bravi a giocare, però noi italiani abbiamo qualcosa in più. Nathan… Nathan o se no anche… anche… ogni tanto Mario, sì, son loro dai, Ryan, Virgie… E una musica che ti piace? Sì, non sono molto appassionato di musica, quindi… però mi va bene sentire un po' di musica diversa da quella che sento io, quindi mi piace sentire musiche diverse. Forse… Fraser, che almeno mi aiuta a combattere.